Buongiorno a tutti, oggi martedì 7 gennaio, ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 7, versetti dall'1 al 13. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro, Bene approfetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro, siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite, se uno dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili ne fate molte. Ecco il Vangelo di oggi è un discorso che Gesù compie in risposta ai farisei e alcuni scrivi che si riunirono attorno a lui quasi per screditare il suo insegnamento, dato che alcuni dei suoi discepoli disobbedivano alla tradizione che prescriveva le abluzioni rituali per la purificazione delle mani degli oggetti prima di prendere cibo. L'abbiamo ascoltato. Ecco in questo discorso Gesù chiama i farisei ipocriti che letteralmente in greco significa persone che recitano un ruolo. Inoltre specifica il motivo per cui li chiama così, cioè perché essi curano più le pratiche che il cuore. Rimprovera l'assurdità anche di alcune pratiche della tradizione fatta da uomini come quella dell'offerta del corban, cioè quell'offerta sacrificale dovuta al Tempio dalla legge per legge e Gesù fa notare che l'obbligo di questa offerta non è di fatto nella legge, anzi in alcuni casi la annulla perché non permette di rispettare ad esempio il comandamento di sostenere i genitori quando non possono. Ecco questo rimando al corban anche se a noi non dice tanto, ecco dice molto poco perché bisogna essere esperti nella questione delle rabbiniche, ecco delle interpretazioni della legge. Però ecco questo rimando ci fa capire appunto che Gesù era un rabbino anche abbastanza aggiornato ma doveva essere molto importante anche per le prime comunità giudeo cristiane perché esso esisteva in relazione al Tempio e fu con la distruzione del Tempio del 70 d.C. che i sacrifici vennero compresi in senso spirituale non più materiale quindi questa offerta di corban di fatto non aveva più senso. Già il profeta Esaia aveva esortato il popolo a un culto esercitato non con le labbra ma con il cuore e ora Gesù riprende questo, lo sviluppa per annunciare che Dio è per tutti creatore e padre. Infatti se le tradizioni sono solo di alcuni, dato che ogni popolo, ogni paese, perfino ogni famiglia ha delle proprie tradizioni, il cuore ce l'hanno tutti gli esseri umani. Se dunque trascuriamo Dio curiamo solo cose umane, ci leghiamo ad abitudini umane e pensieri umani, ruoli quindi diciamo compiti sociali anche da esercitare ma non all'essenziale. E nell'insegnamento profetico biblico ciò che è essenziale profetico biblico, quindi profeti, ciò che è essenziale è il cuore, ecco perché Gesù anche riprende il profeta Esaia perché c'è l'usanza degli uomini che passa avanti al cuore, quindi l'essenziale è il cuore per i profeti perché è che cos'è il cuore? Quel luogo interiore che genera il ritmo della vita, il luogo della sapienza, delle scelte. All'interno del corpo il cuore permette al soffio di vita di rigenerarci ogni attimo, anche biologicamente questo avviene, c'è un ricambio nel sangue grazie alle pulsazioni del cuore. Nel cuore Dio insegna la sapienza secondo la Bibbia perché capiamo che cosa davvero conta nella vita per noi, per la nostra vita. Non ciò che vediamo ma ciò che non vediamo anche è importante, forse anche fondamentale per lo svolgersi della vita. Quindi bisogna davvero entrare nel cuore, in questo santuario interiore per poter capire, discernere cosa davvero conta nella vita, ciò che veramente fonda l'esistenza, nascosto quindi ai nostri occhi. Stiamo attenti anche noi dunque, questo è un richiamo anche per ciascuno di noi, a non cadere nell'errore di questi farisei che si attaccano alla pratica solo per screditare chi non la vive e trascurano il cuore. Nessuno di noi può conoscere il cuore di ogni essere umano, solo Dio lo conosce. Quindi oggi facciamo questo esercizio di cogliere l'ascolto del cuore, di scendere nel cuore per ascoltare il ritmo nascosto della vita dentro di noi, nell'altro, nelle situazioni che ci accadono, in modo che pian piano cominceremo a gustare la vera gioia, quella profonda che viene da Dio e dalla sua sapienza, piuttosto che invece attaccarci alle questioni umane e a tutto altro che invece ci distoglie dall'ascolto del cuore. Buona giornata!